Fiori d'arancio per Virginia Miajlovic. La figlia di Siniscia e Arianna vista qualche anno fa all'isola dei famosi in coppia con la sorella maggiore Victoria e pronta a sposare il calciatore Alessandro Vogliacco. I due sono diventati da poco genitori della piccola Violante. E ora convolano a nozze. La proposta di matrimonio è arrivata la scorsa estate e via Instagram la Miajlovic ha annunciato la data del grande giorno. Quando le nozze, ha chiesto una fan su Instagram durante un ask. Giugno 2022, ha confermato Virginia Miajlovic che per il momento ha preferito non svelare il giorno esatto del lieto evento per una questione di scaramanzia. Sicuramente nei prossimi mesi partiranno i preparativi del matrimonio. Ad oggi non è chiaro dove l'ex naufraga, oggi influencer, dirà sì al padre di sua figlia. Non è escluso che la coppia possa ufficializzare il loro legame a Roma, città alla quale Virginia è molto legata. Attualmente Virginia Miajlovic e Alessandro Vogliacco abitano a Benevento, dove il difensore è stato ingaggiato dalla squadra di calcio della città. La figlia di Siniscia Miajlovic ha confidato di trovarsi molto bene in campagna anche se sente una certa nostalgia di Pordenone. La figlia di Siniscia Miajlovic